Mi sento molto onorato specialmente perché ho scoperto durante quelli giorni che abbiamo fatto insieme che questa idea di questo premio è veramente una cosa che tocca veramente la mia vita e anche dove vengo io e tutti i passi che ho fatto fino lì, anche con Silvia, con la mia moglie che siamo molto molto similari venendo di un paese, Austria-Ungarica si deve dire perché tutte le nostre famiglie sono una mistura di quello passato che viene fino a Ungaria e anche Serbia, Croazia e anche tutta la guida di nostra vita che se siamo andati da un paese a un altro lavorando dappertutto del mondo ma abbiamo sempre cercato un centro dove si può vivere bene e con persone, con una comunità, con cuore. L'ultima l'abbiamo trovato lì a Premariacco, qua a Friuli e abbiamo anche trovato una base anche di lavorare che per noi è una cosa speciale perché il nostro lavoro sempre è stato fatto negli centri, grandi città, grandi industrie, Los Angeles, Berlino, Monaco, non so, Vienna anche se è piccola e qua abbiamo trovato perché anche volevamo finire volare troppo, spendere molto CO2 per cambiamento clima, siamo felici che abbiamo trovato anche una base lì per il nostro lavoro per non distruggere il mondo come abbiamo fatto nel nostro lavoro e passato. Grazie a tutti! Grazie a tutti!